Un nubifragio accompagnato da una violenta grandinata si è abbattuto ieri sera nel territorio di Castione della Presolana. La grandine ha intasato fogne e tombini provocando numerosi allagamenti. Situazione critica soprattutto nella zona di Via Agro dove l'acqua ha invaso alcune abitazioni ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti anche nella zona di Onore dove l'acqua ha invaso l'agriturismo Prato Alto che in questo periodo ospita una sessantina di ragazzini. L'acqua alta fino a 40 centimetri ha invaso la sala da pranzo e i bagni. I pompieri hanno lavorato per aspirarla fin quasi a mezzanotte.